Un tempo erano le guide cartacee, oggi sono le nuove tecnologie digitali a supportare il turista viaggiatore nei suoi pellegrinaggi. Le nuove tecnologie vengono spesso incontro ad esigenze di diversi settori della nostra società, ma ce n'è uno che sicuramente ne ha ricevuto in termini di divulgazione e conoscenza i maggiori benefici ed è quello turistico-museale. Quasi ad ognuno di noi sarà capitato sia in Italia che all'estero di entrare in un museo o in un sito storico, culturale e grazie all'ausilio di audioguide o recentemente dei QR code di acquisire nozioni o di entrare addirittura dentro l'opera d'arte e comprenderne a pieno la sua importanza e tutte le nozioni disponibili. Nella splendida chiesa di San Pietro in Valle a Fano nuove tecnologie a disposizione. Tablet con un programma precaricato che guida passo per passo opera dopo opera il visitatore e ne svela tutti gli aspetti storico-artistici di questo capolavoro del barocco fanese. Abbiamo ritenuto opportuno di attivare una lettura con realtà aumentata e con ricostruzioni per la verità devo dire molto efficaci per cui un visitatore col suo smartphone o con un tablet che viene dato in dotazione potrà seguire un racconto di circa 20 minuti su tutti i dettagli della chiesa in doppia lingua e vedere ricostruite le cappelle con il fotomontaggio dei dipinti che sono albergati in piena coteca. La storia della chiesa di San Pietro in Valle ha inizio in tempi remoti quando il cristianesimo si diffuse nella pagana fanum fortune e lentamente ne trasformò la fisionomia. Ci sarà un QR code quindi col cellulare, lo smartphone, tutti lo sanno utilizzare, più o meno si fa una fotografia e verrà fuori anche sul proprio personale telefonino tutto il racconto. Oppure dentro con le nostre maschere ci sarà chi assiste un turista, consegnerà dei tablet e sul tablet con uno schermo un po' più grande si potrà fare questo viaggio virtuale che ognuno potrà dimensionare nell'arco dei 20 minuti o tutti o 10 spostandosi di persona di fronte a ogni singola cappella, guardando la volta, cercando di vedere i paramenti esterni perché questo è un racconto che analizza dall'esterno all'interno tutta la chiesa. Ed entrando ho percepito con sorpresa un tripudio di ori, stucchi e marmi policromi che non mi aspettavo.